Il più caloroso buon mercoledì, 15 marzo 2017 da Beatrice Crisci, queste le audio news di OndaWeb TV. Sarà la cappella palatina della reggia di Caserta, venerdì 17 marzo alle 19, ad ospitare la finale della terza edizione dell'Academy Imprenditoriale. La manifestazione è organizzata da Zero 12 Factory, il centro di contaminazione per start-up e imprese di Caserta, in partnership con la Fondazione Mario Diana Ollus. Nell'ambito dell'evento sarà consegnato il premio Mario Diana Award Innovation 2017, 10 i finalisti. E' sempre venerdì 17 marzo, ma alle 21, al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capovetere, Serena Ottieri presenta Diana e Lady Di, scritto e diretto da Vincenzo Incenso. Scenografia di Gianni Quaranta, direttore musicale Maurizio Metalli. L'attrice napoletana, a 20 anni dalla morte della principessa del Galles, ne interpreta il lato pubblico e privato. Per questo fine settimana, sabato 18 marzo alle 21 e domenica 19 marzo alle 19, al piccolo CTS di Caserta, è in programma lo spettacolo, una telefonata tranquilla, scritto, diretto e interpretato da Antonello Arabi. La cucina napoletana è questo il titolo del libro di Luciano Pignataro, giornalista del mattino, che sarà presentato domani alle 18 al ristorante Le Colonne di Caserta. Nel suo libro, Luciano Pignataro mescola cenni storici, aneddoti e suggerimenti di prodotti tipici, ricette e vini, tanto da fare interessare non solo i più appassionati e golosi, ma anche i semplici e curiosi. La prefazione del libro è stata scritta da Alfonso Iaccarino, chef del noto ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant'Agata dei Due Golfi. E sarà presentato venerdì 17 marzo alle 11 al Palazzo Ducale di Sant'Arpino il programma delle giornate di primavera del FAI, che quest'anno accenderà i riflettori sull'agro Averzano. Con Donatella Cagnazzo, capo della delegazione casertana del FAI, ci saranno Gianni Colella, sindaco di Succivo, Giuseppe Della Versana, sindaco di Sant'Arpino e Giuseppe Mozzillo, primo cittadino di Orta di Atella. Ed è tutto da Beatrice Crisci, un più che caloroso saluto, ulteriori approfondimenti su OndaWapTV.it